Commissario, allora, presenta la conferenza stampa, ma soprattutto anche per consegnare due encomi alla Polizia. Sì, è veramente una cosa piacevolissima, perché bisogna poi dare merito al merito. E a questo punto non è che facciamo un fatto di facciata, no, è un fatto meritato. Cioè la Polizia Provinciale ha meritato gli encomi che stamattina l'ho voluto fare di fronte a voialzi, di fronte alla stampa, gli ho consegnato. Prima per l'attività contro i cacciatori di frodo, che sono veramente una piaga, perché questo dura tutto l'anno, quindi loro per tutto l'anno sono mobilitati. Ma soprattutto in questo periodo. E fanno il loro dovere e lo fanno bene. Tant'è vero che i risultati si sono visti. Abbiamo già, come avete sentito, sono stati scoperti parecchi cacciatori di frodo in parecchie occasioni. Quindi diciamo che siamo molto attivi. L'altra è l'altra vicenda del Pirata della Strada, che è di una gravità eccezionale. Ma nel contempo è una cosa bellissima, perché avuta la delega da parte della Procura, il comandante e i suoi uomini, entro brevissimo tempo, entro pochissimi giorni, sono risaliti al responsabile di questo investimento brutto. Peraltro nei confronti di una persona conosciuta, la Chiesa Sindaco Calabrese, ma al di là della conoscenza o meno, nei confronti di una persona, chiunque essa sia. E quindi non possiamo che complementarci. Era doveroso da parte mia, insomma, che questo serve a spronarlo. Tenete conto che si interessano anche delle fumarole. Quindi, pur con pochi uomini e con pochi mezzi, però fanno il loro dovere fino in pieno. E siccome io sono abituato a dare merito al merito, perché è giusto che sia così, ci sono situazioni in altre zone della provincia dove non c'è lo stesso attivismo e io lì mi comporto in maniera diversa. Però quando la gente funziona e gli impiegati oggi tanto vituperati, gli indipendenti oggi rispondono e fanno il loro dovere, noi dobbiamo dare merito al merito. Questo ho voluto fare stamattina.